Superare ogni tipo di confine o barriera semplicemente grazie alla ricchezza del territorio. E' questa la mission del Consorzio Imprenditari, la nuova realtà della provincia di Frosinone che mira a rendere giustizia e a portare nel mondo le eccellenze sociale. Agricoltura e turismo è un binomio importante, in particolare per la nostra provincia. Proprio per questo motivo abbiamo messo in piedi un consorzio che consentirà a tutte le imprese giovani e meno giovani di poter promuovere e vendere all'estero i prodotti che qui vengono poco valorizzati. E l'export è certamente uno dei pochi settori che vedono un segno positivo in questa provincia. E' per questo che bisogna puntare sui mercati esteri per rendere giustizia alle preduzioni del territorio. Ma il Consorzio Imprenditari è un consorzio che Confimprese ha voluto fortemente, lo ha promosso e ha fatto in modo che nascesse in questa provincia. Proprio perché noi crediamo che abbiamo veramente una ricchezza infinita fatta dalla nostra produzione ma anche dalla nostra manifattura. Il periodo congiunturale è quello che è per cui non riusciamo a promozionarla e a venderla per come diciamo e per come vorremmo. Non solo promozione ma anche sostegno per le imprese. Se un giovane ha un progetto, ha un'idea, noi riusciamo a sostenerla dal punto di vista della promozione di questa idea ma anche economicamente e cioè gliela finanziamo con il microcredito e gli consentiamo di poter mettere in piedi veramente una impresa importante. E questo non è un progetto futuro. Già si parte con il primo di una lunga serie di workshop sabato a Ponte Corvo nel segno di una di queste eccellenze, il peperone cornetto. Vogliamo iniziare da Ponte Corvo e il primo di settembre mattina alle 10 faremo la presentazione ai broker Svizzera, Germania, Francia e anche Kazakistan che verranno per verificare la bontà dei nostri prodotti.